Quanta voglia hai di vincerlo con l'Atrendina che si è creato con l'Atrendina? Grazie. Voglio aiutermi chiunque. Altre vincere sempre. Io ancora di più perchè, come abbiamo detto, ho vinto mai in niente. La prima finale dell'anno scorso. Sono stato il segnale di questa competizione già una volta e mi piace andare avanti a continuare domani con il primo.